Benvenuti a Maiano in via Villarada per visitare la casa dei Tigli. Siamo nel cuore della campagna di Fusignano. Oggi visiteremo questa affascinante casa di campagna immersa in un rigoglioso giardino. All'esterno notiamo subito il verde che circonda l'abitazione. Ci sono zone ombreggiate ideali per rilassarsi e un ampio prato che si estende tutto intorno. La casa, pur essendo in campagna, non è isolata. È infatti facilmente raggiungibile dalla strada asfaltata e si trova a pochi chilometri da Fusignano, Lugo e Alfonsine, garantendo tranquillità senza rinunciare alla comodità dei servizi vicini. Entriamo ora all'interno. Appena barcata la soglia d'ingresso, ci accoglie una spaziosa sala da pranzo con cucina a vista. Un ambiente ampio e luminoso, perfetto per ospitare pranzi e cene conviviali. Questo spazio si collega senza soluzione di continuità alla stanza attigua, attualmente adibita a lavanderia e ripostiglio. Un ambiente funzionale e pratico, con accesso diretto al giardino, perfetto per chi ama trascorrere del tempo all'aria aperta. Sempre al piano terra troviamo una camera matrimoniale che gode di uno spazio privato aggiuntivo. Un elegante salotto con camino, ideale per rilassarsi nelle fredde serate invernali. Questo salotto dispone anche di un ingresso indipendente, offrendo ulteriore flessibilità. A completare il piano terra c'è un bagno con doccia. Ora saliamo al piano superiore. Un luminoso corridoio ci conduce verso il balcone, che si affaccia sul verde circostante, regalando una vista rilassante sulla campagna. Le camere da letto sono ben quattro, due matrimoniali, una camera doppia e una camera singola, tutte spaziose e ben illuminate, pronte a soddisfare le esigenze di una famiglia numerosa o di chi ama avere spazi versatili. Il piano è completato da un secondo bagno con doccia, anch'esso ben rifinito, per garantire comodità a tutti gli abitanti della casa. Grazie per averci accompagnato in questa visita, una casa che combina il fascino della campagna con la praticità degli spazi ampi e ben distribuiti. Non esitate a contattarci per ricevere maggiori informazioni o per fissare una visita.